Musica Continuano i personaggi importanti al TAM 2016 Abbiamo qui Ross dal TAM al TAM 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 Allora com'è andata questa partita questa sera? Hai corso parecchio? Come? Corrivano molto di più loro Il mio compito era quello di far ridere e ci sono riuscito Quindi io sono un comico Cagliamocela comicamente E solo per quello che hanno fatto Senti che te ne è parso di questo torneo? Si corre molto però insomma un bel torneo Ti ho visto Però c'è solo agonismo quindi c'è tanta sportività Molto 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 divertente Divertente per me che l'ho visto Più che altro ho visto più che giocato Però Bello Bello mi sono divertito Senti ti vedremo tornare qui al TAM A Bacoli Monte di Procida nelle prossime partite? Sì a mangiarmi un panino Insomma sì No no Verrò a giocare Penso di ritornarci molto presto Però Devo tornare indietro nel tempo Perché abbiamo giocato i ragazzi di vent'anni Noi siamo un po' più vecchiotti Senti parliamo un attimo in più in generale Sì Parliamo di calcio Parliamo di calcio Parliamo della nazionale Ah Una domanda a caso Gli europei Sì Pronostico come la vedi? Ma io la vedo nera Però dai Insomma i segnali forse sono positivi Insomma le ultime partite dell'Italia Non c'è male Noi ovviamente tifiamo per Insigne E poi per l'Italia sicuramente Speriamo bene Insomma Come dire Il girone è tosto Però secondo me insomma l'Italia c'è una squadra Che può sicuramente giocarsela alla pari Senti un'ultima battuta Noi a fine partita facciamo voti Vaggele, Telecronica Datti un voto sulla partita di stasera Non pervenuto No dai un Un 6-mino Tendente al 6-mino L'ultima battuta L'ultimissima Come commenterebbe il tuo amico Gigi Dopo questa partita La tua prestazione Ma Barbieri Mi caccerebbe Ti caccio per quello che hai combinato Gigi forse mi sparassimo Ok grazie Ross Ti aspettiamo alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti